Capitolo 7 Non mi accorsi subito che la loro famiglia era più ricca della nostra. La casa al mare non era lussuosa, era modesta e accogliente. Aveva divani in tessuto sbiadito e una poltrona scricchiolante per cui noi ragazzi litigavamo sempre, bianchi muri scrostati e pavimenti in legno scoloriti dal sole. Era grande però, con spazio sufficiente per tutti noi. Come se non bastasse, anni prima avevano fatto un ampliamento. A un'estremità c'erano la camera di mia madre, quella di Susanna e del signor Fisher, e una camera per gli ospiti vuota. All'altra estremità c'erano camera mia, un'altra camera per gli ospiti e quella dei ragazzi, di cui io ero invidiosa. Un tempo in quella stanza c'erano i letti a castello e due letti singoli, e io non sopportavo di dover dormire da sola, mentre li sentivo ridacchiare e bisbigliare tutta la notte attraverso la parete. Un paio di volte i ragazzi mi lasciarono dormire con loro, ma solo quando avevano una storiella particolarmente macabra da raccontare. Io ero un buon pubblico, strillavo sempre al momento giusto. Da quando siamo cresciuti, i ragazzi hanno smesso di condividere la stanza. Steven ha cominciato a stare nella zona dei genitori, mentre Jeremiah e Conrad hanno preso una stanza ciascuno nella mia zona. I ragazzi e io abbiamo sempre avuto un bagno in comune. Il nostro è nei pressi delle nostre camere, mia madre ne ha uno tutto per sé, mentre quello di Susanna è collegato alla sua stanza. Ci sono due lavandini, uno per Jeremiah e Conrad, l'altro per me e Steven. Quando eravamo piccoli, i ragazzi non abbassavano mai la tavoletta e non hanno mai cambiato abitudine, il che serviva a ricordarmi costantemente che ero diversa, che non ero una di loro. Qualcosa era cambiato, però. Un tempo lasciavano il bagno allagato, o perché giocavano a schizzarsi o per sciatteria. Dopo essersi rasati, lasciavano i peli della barba nel lavandino. Il mobiletto era ricolmo di deodoranti diversi, crema da barba e acqua di colonia. Usavano più colonia di quanto io usassi il profumo. Un flacone francese rosa che mio papà mi aveva regalato per Natale quando avevo tredici anni. Sapeva di vaniglia, caramello e limone. Credo che lo avesse scelto la sua fidanzata, la dottoranda. Lui non era bravo in quel genere di cose. A ogni modo io non lasciavo il mio profumo in bagno assieme alla loro roba. Lo tenevo nel cassettone di camera mia e comunque non me lo mettevo mai. Non sapevo neppure perché lo avessi portato con me. Capitolo 8